tempo da lupi tempo da lupi ragazzi non vi fate ingannare dal paesaggio tempo da lupi tempo da lupi tempo da lupi e viene anche il magone il magone perché continuano a susseguirsi questi incontri dirigenza allegri dirigenza allegri summit continui e non se ne viene a capo di nulla di nulla domani terzo incontro e tutta questa attesa mi fa solo pensare che ci sia che si vada verso una conferma del beccamorto ragazzi sarebbe un disastro attendiamo notizie dalla continessa e speriamo domani che sia decisivo questo terzo incontro che ci faccia quantomeno capire qualcosa perché pendiamo tutti dalle labbra di agnelli paratici e nedved fateci capire qualcosa ragazzi ragazzi prima di lasciarci saluto malati zebrati e invito tutti quanti a iscriversi al suo canale malati zebrati mi raccomando ragazzi ragazzi tutti collegati e mi raccomando sempre collegati allo smartphone dalla continessa attendiamo notizie fino alla fine